Tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Salve a tutti cari amici di Orbolandia da Filippo De Santis. Oggi sono qui per vedere insieme a voi una funzione relativamente nuova di un'applicazione che non dovrebbe assolutamente mancare nell'elenco delle applicazioni delle persone non vedenti. Sto parlando di VMyEyes. Noi la conosciamo perché tramite questa applicazione possiamo chiamare un volontario e farci aiutare in un qualcosa delle più varie, dall'oggetto che ci è caduto a terra a farci leggere un testo magari scritto a mano e tante altre cose. Ultimamente è stata introdotta una funzione che è attualmente in beta, quindi in continuo sviluppo, in continuo divenire, che ci permette tramite l'intelligenza artificiale di descriverci una immagine. L'immagine la possiamo scattare tramite l'applicazione stessa oppure possiamo condividere la foto, diciamo, dal nostro album fotografico, ma da qualsiasi immagine, praticamente su VMyEye e quindi avremo la descrizione dell'immagine stessa. Allora, poche chiacchiere, diciamo così, una cosa che dobbiamo dire è che questa funzione va attivata, non è presente di default nelle versioni, anche le più recenti, per lo meno fino a che sarà in beta, quindi dovremo richiedere l'attivazione. Come fare? Io adesso per farvi vedere questo, sto prendendo un vecchio iPhone 8 sul quale è presente l'applicazione VMyEye, ma sulla quale non ho attivato questa funzione. Allora, sentiamo un po'. Allora, questa è l'applicazione, chiama un volontario, è il pulsante classico, facendo doppio tap viene avviata una chiamata e verremo messi in contatto con un volontario a voce proprio. Facendo dei flick verso destra sentite quali altri pulsanti andiamo a incontrare. Sfoglio aiuto specializzato e poi, sentite, virtual volunter beta register, proprio perché non sono ancora registrato, quindi un volontario virtuale in versione beta. Se io faccio doppio tap, vado a richiedere l'attivazione di questa funzione su questo dispositivo, ma vediamo sull'altro dove è attiva la funzione cosa ci permette di fare. Allora, apro l'applicazione VMyEye, eccola qui, doppio tap, Allora, mi dice subito scatto una foto, poi vediamo diciamo proprio tutta la funzione. Allora, nella parte bassa della schermata di VMyEye, ma come diciamo nella maggior parte delle applicazioni sull'iPhone, proprio in stile iOS, c'è la barra dei pannelli. Allora, ci sono cinque pannelli, il primo è richiedi supporto, facendo dei flick verso il primo pannello a sinistra, facendo dei flick pannelli. Ecco qua, e sono i cinque pannelli della barra appunto dei pannelli. Tornando indietro, Allora, facendo doppio tap, è già selezionato, adesso mi sposto con dei flick verso sinistra in modo tale da andare sulla schermata, al centro della schermata, ma potrei toccare proprio al centro. Comunque faccio dei flick verso sinistra, mi dice scatto una foto, pulsante. Io adesso diciamo con, utilizzo questo pulsante per scattare una foto. Sentite cosa succede, doppio tap, scatto una foto. Analizzando l'immagine, attendere prego. Adesso sentite il suono di sottofondo e sta analizzando l'immagine. Nella foto c'è un MacBook che è aperto su una scrivania. Sullo schermo del computer c'è una foto che mostra un'immagine simile, creando un effetto di riflessione infinita. Sotto l'immagine sullo schermo c'è un pulsante che dice scatta una foto. La tastiera del MacBook è visibile con caratteri neri su tasti grigi. Ci sono anche cavi sparsi sulla scrivania vicino al computer. Ok, allora ci ha descritto l'immagine diciamo che ho scattato inquadrando appunto la mia postazione dove sono seduto in questo momento. Io adesso elimino questa foto e vado con dei flick verso sinistra per eliminare e mi giro e faccio una foto in un'altra parte della stanza. Sentite. scatta una foto oscurato analizzando l'immagine attendere prego. Sta analizzando l'immagine nella foto vedo una stanza con una porta finestra. Ci sono delle tende bianche e leggere che coprono la porta finestra. La porta finestra ha una maniglia bianca e sembra che ci sia una persiana verde all'esterno. Sul pavimento ci sono delle piastrelle chiare. In primo piano sulla destra c'è una chitarra appoggiata a un mobile bianco. La chitarra ha un fiocco giallo legato vicino alla parte superiore del manico. Bene avete sentito qual è diciamo la descrizione veramente molto molto dettagliata di quello che è l'ambiente nel quale mi trovo in questo momento. Ma come vi dicevo all'inizio possiamo avere anche la descrizione non solo di una foto che possiamo scattare dall'applicazione, ma tramite la condivisione di un'immagine a questa funzione specifica. Allora per farvi vedere questo andiamo nella applicazione foto, quindi chiudo di my eyes, vado nella applicazione foto, doppio tap, qui ci sono i vari album. Andiamo in recenti. Adesso sentite questa è la descrizione che ci dà l'iphone dell'immagine scattata. Io adesso la apro, doppio tap, nella parte bassa ci sono i vari pulsanti per la gestione delle foto, elimina quello più a destra possibile, torno indietro fino al pulsante condividi, doppio tap, poi nella parte bassa troviamo i vari pulsanti, ovvero copia foto, stampa, io mi sto muovendo da sinistra verso destra, tenete, contro tutto una cosa che questi pulsanti possono variare in funzione di quel che abbiamo installato sul nostro iphone, cioè ci possono essere delle applicazioni che nel vostro che io non ho e viceversa, alcune sono come dire presenti in tutte, tipo copia oppure stampa. usa come sfondo, salva su file, pulsante, assegna contatto, aggiungi a nuova nota rapida, salva in dropbox, pulsante. andiamo ancora avanti verso destra, questa è Siengai, l'altra applicazione, ma non è questa di cui stiamo parlando, andiamo ancora a destra, descrivi con BmyEyes, doppio tap. ecco, in questo caso scrive un messaggio, vedete, è un po' come la chat GPT, perché qui la sta utilizzando, utilizza appunto chat GPT di OpenAI, ecco qui. sul piatto a sinistra ci sono fette di limone e un tipo di pane o focaccia condita con formaggio e pepe, al centro c'è un piatto nero con gnocchi e verdure come peperoni e forse zucchine, con una forchetta, a destra c'è un piatto azzurro con pasta che sembra essere condita con formaggio e pezzi di prosciutto o pancetta, sotto i piatti c'è un tovagliolo di carta con un'immagine in bianco e nero di un ponte e degli edifici, accanto al tovagliolo c'è una forchetta e un coltello posati sul tovagliolo di stoppa marrone. Ebbene, posso assicurarvi che la descrizione dell'immagine è molto molto dettagliata, addirittura alcuni condimenti che sono stati citati nella descrizione sono proprio quelli. Allora, adesso vi faccio invece vedere un'altra funzione di questa splendida applicazione, o meglio di questo aggiornamento di questa applicazione. Allora, torniamo a VMyEyes, quindi chiudo questa applicazione, la chiudiamo, foto, e andiamo in VMyEyes. Allora, adesso cosa faccio? Eliminiamo l'immagine e poi vado in scatta una foto e adesso faccio una cosa. Scatta una foto, oscurato, analizzando l'immagine, attendere prego. Sta analizzando l'immagine, sentiamo cosa ci dice. Mi dispiace, ma non posso visualizzare l'immagine perché è stata bloccata a causa di un possibile contenuto sensibile. Se hai bisogno di assistenza con qualcos'altro o hai un'altra immagine da descrivere, sarò felice di aiutarti. Sapete perché? Perché ho fatto una foto a me stesso, cioè ho inquadrato me stesso e ho scattato la foto. Cioè, in pratica, quando sono presenti persone, questa applicazione non ci permette la descrizione dell'immagine. Tutte queste funzioni, ve l'ho detto all'inizio, è una funzione beta, cioè una funzione che sta ancora in beta, quindi sicuramente verranno apportate numerose modifiche nel corso del tempo. Tenete anche presente una cosa che, per esempio, due giorni fa l'applicazione restituiva la descrizione dell'immagine in lingua inglese. Adesso è in lingua italiana. Quindi capite benissimo come questa funzionalità potrà subire notevoli modifiche e migliorie nel corso del tempo. Spero che questa mia descrizione di questa applicazione già prima, ottima, adesso ancora, diciamo, migliorata, sia stata per voi stimolante e soprattutto chiara. Filippo De Santis per Orbolandia vi saluta e vi do appuntamento a un prossimo tutorial. In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi. Iscriviti qui di seguito sul canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi. Iscriviti qui di seguito sul canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi.